E' stato a Sciacca ieri pomeriggio lo scrittore Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi rivolti ai ragazzi. Al secondo circolo didattico Sant'Agostino ha presentato il suo libro Lucy, la prima donna, durante un incontro rivolto ai bambini delle terze classi di scuola elementare. Un'opera incentrata sulla storia di Lucy, la più antica antenata dell'umanità, il cui scheletro il più completo di un antenato vissuto oltre 3 milioni di anni fa, venne rinvenuto in Africa il 24 novembre del 1974. Si tratta dell'ominide più famoso mai ritrovato e la sua scoperta è stata ritenuta fondamentale dagli studiosi e dagli esperti, anche se non risolutiva, per tracciare l'evoluzione della nostra specie. Una storia che ha molto affascinato ed incuriosito i bambini del secondo circolo durante l'incontro con l'autore. A fare gli onori di casa è stato il nuovo dirigente scolastico della scuola Sant'Agostino, Emanuele Giordano, e sono intervenuti anche l'assessore alla pubblica istruzione Gisella Mondino e Antonella Palazzotto della libreria Mondadori. L'iniziativa di ieri pomeriggio rientra in una serie di incontri con l'autore, che da diversi anni il secondo circolo didattico Sant'Agostino porta avanti nell'ambito di un progetto, la cui coordinatrice è l'insegnante Patrizia Marciante, che coinvolge le docenti Erina Frisella, Antonella Montalbano, Nina Monteleone e Rosa Maria Buttafuoco.